Don't believe me just one Io vado in Giappone Ma sono imparato le bestemmie in giapponese Allora Eccolo qua Lista agenti speciali 71,9% Io ce provo per la prima volta del giorno Non ce sto a dormire la notte Li mortacci loro Ma tutti non me capita Lo danno solo a chi non ti fa Roma Se becco loro menca Oddio Cominciamo male Cominciamo male Meno 4 possibilità Questo chi cazzo è Vabbè questo è un bel giocatore Eliseu comunque 79 Fa tutte e due le fasce Mi pare di averlo già pescato lo scorso anno E mi ricordo che c'ha una bella velocità de base Quindi E infatti 84 velocità 84 potenza di rompente È un ottimo giocatore perché c'ha pure abilità principali Però sinceramente Non mi aspettavo il pallone oro Dopo averne beccati tre ieri Ce riprovo 73% Io ve l'ho detto Me son parato le bestemmie in giapponese Faccio un macello Allora Schiaccio Guarda che me Me devi da totti Me devi da totti Non è Eccolo Questo è negretto E questo non può essere totti E Remy Uno dei giocatori più forti dello scorso anno Che avevo trovato Perché non è che lo scorso anno Gabbo me ne era così sculato Con Remy ci ho fatto una marea di partite ragazzi Ma ha fatto la differenza Vabbè mi è capitato pure quest'anno Un po' troppo in ritardo Comunque Velocità 90 Potenza di rompente 89 Elevazione 87 Abilità offensiva 82 Questo c'ha Colpo de capoccia Tiro de prima Elastico Tiro da lontano Tiro da vicino Tiro de terza Cioè frega un cazzo Terza pescata del giorno Io mo me devo un cazzà Me devo un cazzà Perché non è possibile Arripago con GP Cioè manco io sto chiedendo Ronaldo Messi Ma me l'hanno dati tutti Quello che voglio non me lo danno Ma come cazzo se fa Arriecco le palle Guarda che si ferma su loro Le bestemmie Le bestemmie Mamma mia E pallone nero Questo è Totti Questo è No non è Totti Perché il calzino Non è quel Che cazzo E questo è Eze del Real Madrid 22 anni Comunque un ottimo giocatore Ma non me serve Mannaggia la puttana Potenza di rompente Controllo palla Finalizzazione Velocità Eccola Pure questo Colpo de cazzo su Veronica Glielo fa pure calibrato Glielo fa Vabbè Allora Eeeh Vediamo un po' Quarta pescata del gioco 71 e 5% De pallone nero Cioè io dico no Ma me devo un cazzà Non lo so Non so più che pensà Schiaccio Mo c'è sta un filotto De oro Speriamo che non c'è Se ferma sopra Sono passati Sono passati E' nero Perlomeno è nero Damme Totti Damme il capitano Damme Qualcosa fa Ma non è Totti Qualcosa fa Ma non è Totti La corsetta Oddio Oddio Questo è forte Eppure questo lo volevo Mannaggia la miseria E' un giocatore lento Come la merda Eeeh Però vabbè Comunque sia C'ha dribbling C'ha passaggio C'ha fisico Pure è abbastanza difensivo E' Kevin Strottman 25 anni Uno è 86 Ma soprattutto è Mastino Quindi uno di quelli Che proprio Cioè Gli vi voglia di appizzarlo Pure all'arbitro De conseguenza Questo è un giocatore Che volevo naturalmente Passaggio raso terra 86 Cioè secondo me Può fare la differenza Passaggio alto 86 O che voti che fa Resistenza 86 Che a centrocampo Comunque conta Ave parecchia resistenza E potenza De tiro 85 E' un leader Con spirito combattivo E' pure furbo Quindi astuto Se aggiunge ai membri My club Ok ho pescato Kevin Strottman Quello che vi pare Ma Totti Do cazzo sta Io non riesco a capirlo E vabbè Che vede ne te nascosti Benzema Vede ne te nascosti Bale Vede ne te nascosti Messi Quello Quella Que Cac Ma li mortacci Vostra Ma questo chi è mu Ma guarda Che cazzo De storie M'hanno dato Casiglia De Real Madrid Cioè io non so Riuscito a pescà Totti Non ce posso crede Cioè sono si caccome Le bestie Evidentemente Non è destino Ma che cazzo Non lo so Non è destino Che lo pesco Questo c'ha Portiere 87 Copertura 87 Ne è che fa schifo Comunque Porca puttana Respinta 85 Riflessi 84 Rimessa lunga Pt E rica Se vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel mi piace Commentate Fatemi sapere Che avete pescato Voi Mannaggia La miseria Io voglio sapere Se un tifoso Della Roma De quelli Sfegatati Come Gabbo Menn ha pescato Totti Oppure no Perché non è possibile Condividete Iscrivetevi al canale Detto questo Senza dei Totti Me ne farò Una ragione De vita A rica Vi do appuntamento Alla prossima Se vediamo Bella a tutti Ciao